Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a risolvere un problema di calcolo delle probabilità. In un'urna ci sono 4 palline bianche e 7 palline nere, come vedete qui rappresentato. Calcola la probabilità di estrarre al più 2 palline bianche in 5 estrazioni con reemissione. Per capire come andare a svolgere questo problema ci sono alcune parole chiave da analizzare. In particolare dobbiamo considerare questo termine al più, quindi dovremo andare a calcolare una probabilità che considera gli eventi 0 palline bianche, 1 pallina bianca, 2 palline bianche. Possiamo arrivare al massimo a 2 palline. L'altra parola importante da osservare e da comprendere è questo con reemissione. Quindi noi stiamo analizzando una serie di eventi, in particolare di 5 estrazioni, in cui ogni volta dopo aver estratto una pallina andiamo a reinserirla nell'urna, prima di estrarre la pallina successiva. Questo significa che in ogni estrazione la probabilità di pescare una pallina bianca o una pallina nera è la stessa. E quindi le varie estrazioni sono tra loro eventi indipendenti. E questo sta alla base proprio dell'applicazione del metodo delle prove ripetute di Bernoulli, di cui vi ricordo la formula. Cioè la probabilità di x uguale a k è uguale al coefficiente binomiale n su k per la probabilità p alla k per 1 meno p alla n meno k. Cerchiamo di comprendere adesso questi simboli. Allora, n corrisponde al numero di estrazioni totali, quindi nel nostro caso sarà 5. P è la probabilità di estrarre una pallina bianca in una singola estrazione, quindi diciamo è la probabilità favorevole all'evento che stiamo considerando. 1 meno p è ovviamente il suo complementare, quindi nel nostro esempio sarà la probabilità di estrarre una pallina nera nella singola estrazione. Il k corrisponde al numero di estrazioni favorevoli che stiamo andando a esaminare all'interno delle 5 estrazioni totali. Quindi per noi il k sarà legato alle 2 palline bianche che vogliamo estrarre al più durante questo problema. Quindi andiamo a considerare che per trovare la p del singolo evento, quindi la probabilità di estrarre una pallina bianca, ovviamente consideriamo le 4 palline sulle 11 totali, avremo 4 undicesimi. Il complementare 1 meno p è 7 undicesimi, corrisponde ovviamente, come vi ho già detto, alla probabilità di estrarre una pallina nera nella singola estrazione, e il numero di prove totali ovviamente n uguale a 5. Vorrei sottolineare il fatto che l'aspetto del con reemissione è fondamentale nel poter applicare le prove ripetute di Bernoulli e quindi questa formula. Noi possiamo utilizzarla soltanto nel caso in cui tutte le varie estrazioni sono eventi indipendenti tra loro. Osservate che lo stesso problema posto senza reemissione rendeva necessario cambiare la probabilità di ogni evento a seconda del momento in cui andavo a estrarre la pallina. Nella prima estrazione avrei avuto 4 undicesimi e 7 undicesimi come probabilità bianco e nero, ma già nella seconda estrazione avrei dovuto calcolare delle probabilità differenti a seconda che nella prima estrazione sia uscita una pallina bianca oppure una pallina nera. Cioè saremmo ricaduti in un discorso del tipo probabilità condizionata che spesso si risolve o con tecniche ad albero oppure preferibilmente con il calcolo combinatorio. Fatta questa precisazione andiamo a risolvere l'esercizio e facciamo il conto. Vedete che adesso dobbiamo calcolare la probabilità di avere al più 2 bianche, quindi sto calcolando la probabilità che x sia minore o uguale di 2 e questo corrisponde alla probabilità di estrarre 0 bianche più la probabilità di 1 bianca più la probabilità di 2 bianche. Quindi applico la formula di Bernoulli e vedete quindi 5 su 0 per 4 undicesime la 0 per 7 undicesime la 5. Vedete questa corrisponde alla probabilità del caso in cui sto trovando 0 bianche e 5 nere. Quindi vedete la probabilità del bianco è elevata alla 0 e la probabilità del nero è elevata alla 5. 5 su 0, il coefficiente binomiale, mi dà il conto delle combinazioni in cui io posso trovare 0 bianche e 5 nere. Questo ovviamente sarà 1. Per una bianca avrò 5 su 1 per 4 undicesime la 1, 7 undicesime la 4. Come appena spiegato sono i casi in cui sto estraendo una pallina bianca e 4 nere. Vedete 4 undicesime la 1, 7 undicesime la 4 e il 5 su 1 mi va a calcolare in quanti modi posso effettivamente distribuire le estrazioni una bianca e 4 nere in maniera identica al caso delle 2 bianche e delle 3 nere. Quindi vedete 5 su 2, 4 undicesime la seconda, 7 undicesime la terza. Quindi svolgiamo i conti in cui vedete ho semplicemente esplicitato che cos'è il coefficiente binomiale. Vedete 5 su 2 sarà quindi 5 fattoriale fratto 2 fattoriale per 3 fattoriale. Ricordatevi la somma del denominatore deve essere esattamente quella del numeratore nel senso che 2 più 3 mi dà 5. Finiamo il conto. Vedete quindi i calcoli binomiali mi portano 1, 5 e 10 rispetto ai coefficienti binomiali. fate il calcolo utilizzando ovviamente questi esponenti 5, 0, 1, 4 oppure 2, 3 e trovate facendo la somma, qui basta applicare in maniera corretta la calcolatrice che la probabilità richiesta è 0,74. E questo completa il nostro esercizio. Grazie.